In questi anni di viaggi, approfondimenti e curiosità, abbiamo attraversato insieme luoghi davvero unici. Riviviamo l'emozione della scoperta, ripercorrendo il meglio che sino ad oggi abbiamo potuto conoscere della nostra Italia e delle sue incredibili meraviglie. Per conoscere l'Italia settentrionale occorre viaggiare attraverso i suoi sofisticati centri urbani. Grandi città che grazie alle proprie industrie lavorano incessantemente per disegnare il futuro. La meraviglia del nord Italia però non si cela soltanto nel suo spirito imprenditoriale, nella sua vitalità frenetica e travolgente. Qui le maestose architetture cristallizzano il tempo, plasmando un patrimonio artistico unico. Le montagne alpine disegnano paesaggi mozzafiato, regalando a chiunque le visiti una sensazione di immensa serenità. Intraprendiamo dunque un viaggio alla scoperta di un territorio tanto variegato ed eccezionale. Il nostro punto di partenza è Milano, una città che nasconde molte più bellezze di quelle che non si vedano rimanendo fermi alla sua superficie. Scopriamo allora la tenacia, la forza e la creatività del capoluogo Lombardo. I lavori per l'edificazione della nuova cattedrale di Milano iniziarono nel periodo di massimo splendore del gotico per le...